La mano va se non dici niente più Si rai retto il cuore Rindo silenzio e stanotte tu puoi sentire Tutto quello che non sa cedì Tutto quello che non sobrava te fa capì Può sentire Con più deboli sonchi Casi tutta vita mia Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti Beh, vi aspetto il 27, mi raccomando affrettatevi che stanno prendendo i biglietti Poi non ve la prendete con me Affrettatevi a prendere il vostro ticket, come si dice Perché siamo già belli pieni Mancano, credo, penso ancora la quarta parte dei biglietti Quindi fate presto, se volete essere dei nostri E se volete cantare canzoni come quella che ho accennato Così, mamma mia, stanno a dire che vuoi dire C'è nata così, a pozzo fa pure meglio, vuoi giuro Quindi vi aspetto il 27 novembre Quindi fra poco ragazzi Vi aspetto al Teatro Roma di Portici Per tutte le informazioni potete chiamare il 338 86 22 513 Insieme ai numeri che adesso posterò su questo posto Scusate il gioco di parole Oppure andare su www.godue.it Li potete o acquistarli online Oppure scegliere il punto vendita più vicino a casa vostra Comodissimo ragazzi Più di questo si può fare Cioè li abbiamo messi in condizione di trovare i biglietti dovunque Quindi se volete essere dei nostri E se volete essere con me il 27 novembre Quindi fra pochi giorni al Teatro Roma di Portici Basta semplicemente chiamare i contatti E andare su godue.it E il gioco è fatto Vi aspetto là Ciao ragazzi